Grande attesa per il derby di domani in programma allo stadio Passena di Battipaglia tra la battipagliese e la polisportiva Santa Maria. Sarà certamente una gara molto tattica con i mister Fusco e Pirozzi che di certo cercheranno di portare a casa subito punti preziosi. Tra gli ex spicca l'attaccante della battipagliese Fosso Piccirillo che ha trascinato lo scorso anno con i suoi gol la polisportiva Santa Maria. Dall'altra parte il difensore Felice Pastore che a Battipaglia ha giocato varie volte. Insomma una gara che promette spettacolo e divertimento. Grazie.